Massimo Mallegni presenta la sua squadra. Con largo anticipo sulla data delle elezioni, che sembra slittare ancora, addirittura il 7 giugno, il candidato sindaco del centro-destra ha già ufficializzato la sua eventuale terza giunta. Nomi molto conosciuti in città. Daniele Mazzoni, presidente dei Balneari, sarebbe vice sindaco. Tra gli assessori, Simone Tartarini, ex numero uno delle imprese del Portone, ai lavori pubblici, ambiente e scuola. La commercialista Cinzia Crivelli al bilancio, la popolarissima Laura Santini al sociale e tradizioni e infine Andrea Cosci, attuale capogruppo di Forza Italia, allo sport e municipale. Pronta anche la lista dei candidati consiglieri. Sono tornato in campo per offrire un'alternativa unitaria al governo del centro-sinistra, ha spiegato Mallegni, che si presenterà alle urne con un'unica lista che riunisce tutte le forze politiche. Se c'era la volontà di avere Mallegni come candidato a sindaco, era importante che vi fosse un'unità di intenti. Tutti quelli che sia il centro-destra, ma anche associazioni, cittadini, eccetera, non si sono riconosciuti e non si riconoscono in questo modo di amministrare. Questo insieme rappresenta l'alternativa. Mallegni torna subito all'attacco della giunta Lombardi, già criticata in questi giorni per la gestione dell'emergenza uragano. Azzardato l'annuncio degli sgravi fiscali per le famiglie colpite, secondo Mallegni, dal momento che non esiste nessun atto formale della giunta e neppure è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Le amministrazioni lavorano con atti amministrativi e di conseguenza, se vogliono, giustamente, e io lo spero, l'ho chiesto per primo a quattro giorni dall'evento calamitoso, se vogliono spostare le tasse comunali, non solo quelle ma anche quelle nazionali, ma preoccupiamoci di IMU e Tari, nonché Tasi, complessivamente IUC, credo che sia importante fare un atto amministrativo. Invito l'amministrazione, il sindaco e l'assessore che vuol fare il candidato a sindaco di prendere la macchina, andare a Roma, piazzarsi a Palazzo Chigi finché il decreto non esce. Quindi è importante questo passaggio. Quindi per fortesia, grazie della vostra iniziativa, ma attivatevi in tal senso.